È tornata l'acqua nelle case a Vilminore di Scalve. Il servizio idrico è stato interrotto la vigilia di Natale quando una frana di notevoli dimensioni è caduta bloccando la provinciale nella zona del Pontettino e strappando le tubature dell'acquedotto comunale. La massa di roccia, fango e neve è partita in quota e si è ingrossata scendendo a valle, devastando l'alveo del torrente e andando poi a formare un tappo contro la struttura del Pontettino. Quando l'ammasso di detriti ha ceduto sotto la pressione dell'acqua, i tubi sono stati strappati via e nonostante la strada sia stata pulita e riaperta quasi subito, circa 800 residenti tra Vilminore e la frazione di Vilmaggiore sono rimasti senza acqua per quasi due giorni. Erano senza acqua. Vilminore, Tessolo e Sant'Andrea. Ieri pomeriggio, verso le 4, era la fontana di Vilmaggiore, fontana principale. A riempire le bottine dell'acqua erano di Vilminore, perché erano proprio completamente senza. Per dirti la verità, io sono stata senza, ma ho anche l'autoclave, attacco anche quella. Comunque abbiamo iniziato sabato mattina a non avere l'acqua. Le prime segnalazioni dell'inconveniente sono arrivate verso le 2 del giorno di Natale. Alle 2 e un quarto gli operai avevano ancora qualche briciolo di panettone sotto i denti. Si sono ritrovati in comune con il responsabile dell'ufficio tecnico, il vice sindaco, tutti l'assessore Tagliaferri, in modo tale che il giorno di Santo Stefano, ancora prima che arrivasse la luce, tutte le squadre erano al lavoro e hanno potuto nel giro di 4-5 ore rimediare tutti gli inconvenienti, almeno l'emergenza. Ora bisogna fare la conta dei danni e già questo lunedì un tecnico della regione si recherà sul posto per valutare gli interventi necessari a rimettere in sicurezza la Val del Tino. Ci sarà bisogno di interventi importanti perché se non sistemiamo questo dissesto le prime piogge potrebbero causare altri danni, quindi bisogna intervenire radicalmente proprio per risolvere a monte il problema. La frana caduta nella Valle del Tino aveva divelto anche i tubi del metano che portano il gas a Schilpario. I tecnici di A2A, società che gestisce il servizio, hanno riparato prontamente il guasto e i disagi per i cittadini sono stati limitati. Quanto è rimasto senza metano? Dalle due e mezza alle cinque e mezza, hanno detto. Io abito a Schilpario, non mi assoliva niente, avevo acceso il gas sotto una pentola e mi sono accorta che l'acqua non si scaldava, di conseguenza ho capito che non c'era il gas. Però hanno ripristinato rapidamente? Penso un paio d'ore. Sempre la notte di Natale, a pochi chilometri di distanza, nel comune di Schilpario, una slavina ha interrotto la strada all'altezza del torrente Manna. In poco più di due ore gli operai del comune e i vigili del fuoco hanno rimosso la neve e riaperto la strada al transito delle auto, permettendo così ai numerosi turisti appassionati di sci di fondo di raggiungere le piste di Schilpario.